La protezione civile della Sardegna ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse sino alle 18 di domani, mercoledì 18 gennaio. Si prevedono nevicate, anche se moderate, sulla Sardegna settentrionale centro-orientale a partire dai 200 metri. Il forte vento di Grecale, che è imperversa sulla Sardegna nord-orientale, sta dando origini a forti mareggiate sulle coste settentrionari. Gelate sono previste sulle strade nelle ore più fredde, sull'alto piano di Campeda vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici da neve. Ieri la città si è imbiancata intorno alle 21 con temperature di poco superiori allo zero, ma già stamattina, tranne qualche spruzzo di neve sui tetti, non erano rimaste molte tracce, per effetto di una pioggia persistente che andrà avanti fino a domani, mantenendo temperature rigide e forti mareggiate con venti intorno ai 29 km orari. Il maltempo potrebbe attenuarsi da giovedì con un rialzo del termometro fino a 9 gradi e attestarsi intorno ai 12 nel fine settimana, quando però riprenderanno le piogge, con un'umidità che sfiorerà il 90%.